Continua senza sosta l'attività dei finanzieri del gruppo di Lamesia Terme, nel contrasto al lavoro sommerso. Questa volta le ispezioni delle fiamme gialle hanno riguardato una nota palestra gestita da un'associazione sportiva ed hanno consentito di scoprire l'impiego di oltre 23 lavoratori non in regola, dei quali 12 completamente in nero. Gli accertamenti condotti sulla struttura sportiva hanno permesso di riscontrare la presenza in difetto di qualsivoglia comunicazione al sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di receptionist, addetti di sala, istruttori, impiegati di segreteria. Nei confronti dei responsabili dell'associazione sportiva è stata quindi avviata la procedura della diffida alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori e dal pagamento della maxisanzione calcolata ricostruendo giornate di effettiva presenza al lavoro dei dipendenti nonché ulteriori irregolarità riscontrate quali l'omessa o infedele registrazione di dati obbligatori sul libro unico del lavoro e la violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni per un ammontare complessivo di oltre 300 mila euro. Inoltre nel corso delle verifiche è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato installato all'insaputa dei lavoratori. Per tale ulteriore violazione si è proceduto alla segnalazione dei responsabili all'autorità garante della privacy. L'azione di servizio svolta testimonia l'azione del corpo a contrasto del lavoro nero e irregolare che rappresenta una piaga per l'intero sistema economico sottraendo risorse all'erario, minando gli interessi dei lavoratori spesso sfruttati e favorendo una competizione sleale con le imprese oneste.